Buongiorno amici di Colpo d'Occhio, oggi siamo al Vomero e siamo venuti a chiedere qualche informazione e qualche giudizio riguardo la bellissima partita che si è giocata ieri, 22 dicembre 2014, e che ha visto la netta vittoria del Napoli sulla Juventus. Ovviamente come potete vedere da buoni scaramantici e da buoni napoletani siamo ricchi di cornicelli e qui abbiamo anche un personaggio che abbiamo incontrato la settimana scorsa con lo scorso avvenimento. Di chi stiamo parlando? Di Totò. Guardate, guardate. Ragazzi che cosa dire? Totò ci ha portato veramente fortuna. Vincere contro la Juve è come vincere 10 scudetti, specie a Natale. Figuratevi la faccia dei juventini. In questo tifoso un po' di rammarico e di tristezza. Secondo me voi già sapete il perché. Stiamo parlando con un tifoso juventino. Nella tomba di Fiero Napoli. Perché Napoli mi dà solo soddisfazioni. Anche se questi sono un popolo di denigratori, quando le cose vanno male, tutti dicono sempre, ma qua, ma là, ma qua. Ma quando le cose vanno bene, tutti vanno sul carro dei vincitori. Il Napoli va male quando perde, ma quando vince tutti siamo tifosi del Napoli. Guardate un po' che cosa abbiamo qui. Forza azzurri, forza Napoli. Buongiorno signora Marisa. Questo è il suo cavallo, il suo ciucciarello. Cosa ne pensa? Noi amiamo il Napoli. È la nostra vita, la nostra ragione. Quindi pensa che la partita di ieri sia stata anche un motivo... Meritatissima. Motivo di vanto per la nostra città? Sempre. Forza Napoli! Marisa, noi siamo nel mercatino e lei, questa ovviamente è la sua struttura, il suo piccolo, diciamo, palazzo. Infatti, come potete vedere, amici di Colpo d'Occhio, è allestito benissimo e la signora Marisa è abbastanza... La proprietaria. La proprietaria, sì, e sicuramente vende tutti questi bellissimi prodotti tutto il periodo natalizio e anche della Befana. Sì, dopo mettiamo la cioccolata, anzi, venite da noi. Ok, signora Marisa, un bel forza Napoli. Sempre forza Napoli. Sono Napoli! Sono Napoli! Napoli ha vinto. È fortissimo! Iguain è il più forte di tutti, forza! Iguain! 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 Ecco, amici, ve l'avevo detto che stamattina i tifosi sono attivissimi, grazie, buona giornata, è sempre forza Napoli. È stata bellissima. Stiamo parlando con un tifoso juventino. Forza Napoli! Forza Napoli! Stiamo parlando con un tifoso juventino. È stata una partita spettacolare, peccato che noi stavamo qua, però per quello che abbiamo potuto ci siamo stati vicini. Forza Napoli! E chi pensi che abbia giocato meglio? Iguain. Iguain. Quindi il tuo calciatore preferito? Sì. Gridiamo un bel forza Napoli? Forza Napoli! Stefano, una bella domanda riguardo la partita di ieri. Devi essere onesto, però, ok? Tu eri convinto che il Napoli... No, che perdesse 2-0. Addirittura! Sì, è un fatto scaramantico, però. Ah, ok. E giustamente, quando il Napoli però ha vinto, il risultato... È cambiato, 2-2. È cambiato, no? Nel senso, anche lo stato d'animo, immagino. È ovvio, anche stamattina, insomma, un po' tutti quanti siamo più allegri, no? E infatti, l'ego del tifoso napoletano proprio sta a mille, anche perché ieri sera c'è stata grande festa qui. Ma poi come ha vinto, insomma, al punto giusto, sui rigori, ha segnato, ha pareggiato alla fine, insomma, pure tutti i pastori sono più allegri stamattina. I pastori hanno fatto la ola insieme a noi, insomma. Grazie mille Stefano, buona giornata. Vedo una N del Napoli. Ma chi è, chi è, chi è? Secondo me un altro tifoso, un altro tifoso... Ciao, come ti chiami? Francesco. Ciao Francesco, immagino che tu, da tifoso napoletano, ieri hai visto la partita. Sì. E cosa ne pensi? Un tuo giudizio? Una partita molto combattuta tra le due squadre, un bel confronto tra i due argentini, Tevez e Higuain. E fortunatamente ha avuto la magia del nostro Higuain. Ok, grazie mille Francesco. Diciamo insieme un bel Forza Napoli? Forza Napoli! Amici di colpo d'occhio, da come potete capire, i tifosi napoletani stamattina sono veramente molto molto attivi. Infatti noi stiamo ricevendo tantissime richieste perché vogliono essere intervistati a tutti i costi, vogliono dimostrare e vogliono urlare il loro Forza Napoli. Quindi noi continuiamo a... Malato, malato, no tifosissimo. Malato del Napoli. E quindi che cosa pensi della partita giocata ieri? È stato un miracolo commerciale. È stato un miracolo. Lo diciamo insieme a un bel Forza Napoli? Forza Napoli, Forza Napoli, chi non ne va... Oh 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 oh! Tre! Forza Napoli! Stiamo parlando con un tifoso juventino. E non le gabinette fai uve. Ok. O non le gabinette fai uve, purtroppo lo tengo in giù. Troppo Napoli, quattro euro, quattro euro, quattro euro. Perché devono comprare questo bellissimo plede? Eh perché la guende solo me è morta. È morta? È morta la juve. Stiamo parlando con un tifoso juventino. Cosa ne pensi della partita di ieri? No, è una bella partita giocata su ritmi bassi per via della stanchezza di entrambi le squadre, si vedeva, i ritmi erano bassi. Però il Napoli ci ha creduto e ha meritato di vincere perché comunque rimontare due gol, soprattutto il secondo, mancavano pochi minuti alla fine. Ha meritato la vittoria, poi i rigori si sa, è una lotteria, si può sbagliare, si può segnare. Grazie mille. Ci ha creduto di più e ha vinto. La partita è stata bellissima. La goduria massima. Stavamo insieme a un amico e mio figlio. E non ti dico, forse è uno dei Natali più belli di mio figlio da quando è nato. Ah perfetto, quindi ci voleva proprio questo bel regalo del Napoli. Certo. Facciamo un bel saluto a Colpo d'Occhio insieme? Ciao, buon Natale. Non ho più la voce, infatti ieri è stata una partita spettacolare in quanto contro la Juve è sempre una partita speciale, particolare, diversa da tutte le altre. Vincere ai rigori in quel modo è stata una cosa spettacolare, eccezionale. Quindi noi ci auguriamo che questo sia anche di buon augurio per il Napoli. Sicuramente, il Napoli è una bellissima squadra, basta qualche ritocco piccolino e sicuramente faremo un bel campionato. Noi la sosteniamo e quindi un bel Forza Napoli insieme. Forza Napoli! Forza Napoli, ciao! Forza Napoli! Dopo la bellissima partita di ieri noi vogliamo urlare un bel... Forza Napoli! Forza Napoli e buon Natale a tutti! Ciao! Siamo forti! Amici di Colpo d'Occhio, il nostro servizio si conclude qui. Ricordiamo che oggi siamo stati al Vomero. Ci auguriamo che tutte le interviste e tutte le immagini che avete visto siano state di vostro gradimento e vi diamo appuntamento alla prossima rubrica. Ciao! Ciao!